Giovani talenti della racchetta crescono. Sette giorni di ottimo tennis sono andati in archivio sui campi in terra battuta del CT Ugo Simen che ha ospitato la scorsa settimana il trofeo Tennis Fit Kinder più Sport, un appuntamento di notevole prestigio che si rinnova ormai da diversi anni a Barletta. Ottanta i protagonisti che si sono alternati sul rosso della città della disfida, tanti tennisti che si sono messi in evidenza. Uno di questi è Carmine Leo, quattordicenne, barrese e tesserato con il tennis Marcello Renna di Giovinazzo, battendo in finale 6-4-6-0 Ernesto Sardella, canossino del CT Barletta. Si è giudicato infatti con merito il successo nel torneo riservato agli under 14 maschili. Non sono mancate soddisfazioni per la società che ha organizzato l'evento, quella del neopresidente Francesco De Martino che è salita sul gradino più alto del podio con il canossino Pietro Bernò nell'Under 10, superando nel lato conclusivo il compagno di squadra Alessandro Binetti, con il margheritano Antonio Scognamiglio nell'Under 12, con Giuseppe Rizzi nell'Under 13 e con Roberto Dicciollo nell'Under 16. Nell'Under 11 invece si è imposto l'andriese Riccardo Miano, tesserato con il nuovo tennis Sant'Agnese. In campo femminile invece ha vinto l'Under 14 Simona Cassano del circolo tennis Ugo Simmen, oltre ad Aurora De Martino del tennis Villaggio Pietromena di Barletta nell'Under 10 e alla Manfredognana Iris Simonini nell'Under 12. Prezioso dal punto di vista organizzativo, il contributo offerto al torneo dal direttore di gara Fulvio Frezza e dal giudice arbitro Antonio Paolillo. I finalisti dei tornei provinciali e regionali Tennis Fit Kinder più Sport infine avranno il privilegio di partecipare poi al Master Nazionale in programma dal 21 al 30 agosto sulla Terra Rossa del Foro Italico a Roma, palcoscenico che ogni primavera ospita gli internazionali d'Italia.